Sono qui a ricevere questo premio, mi ha fatto molto piacere. Io non conoscevo il Crocitti, però me lo ricordo benissimo. È uno dei ricordi di cinema che ho più presenti. Sono contento che si siano ricordati di me e di tanti film che ho fatto, e tante cose belle che ho fatto al cinema, che mi ha riempito la vita. Come il teatro, d'altra parte, io ho fatto tutte e due. Non è che ho bisogno di rialzo tanto al cinema, ho fatto anche tanto teatro. Devo dire che tutte e due le cose sono molto affascinanti, sono diverse ma affascinanti.